1997, la presentazione dell'album pop degli U2 viene trasmessa in mondo visione da un centro commerciale di New York. 2002, Giorgio Lucas presenta il secondo episodio di Guerre Stellari in Contemporanea Mondiale. 2003, David Bowie collega le sale cinematografiche di 15 paesi del mondo per presentare in anteprima il nuovo CD Reality. Da allora la tecnologia applicata alla comunicazione ha fatto passi da gigante. Internet in pochi anni ha aumentato in modo esponenziale i propri utenti. La telefonia mobile si è evoluta altrettanto rapidamente, passando dalle applicazioni ETAX, GSM e GPRS, fino all'attuale tecnologia UMTS, che grazie alla banda larga consente di inviare immagini e contributi video digitali in alta qualità, fino a ieri ad appannaggio del solo broadcast televisivo terrestre e satellitare e delle trasmissioni via capo. Ottobre 2007 nasce Schermo Visual Network, un nuovo circuito di 100 discoteche tra loro collegate per comunicare al popolo della notte, rafforzando la penetrazione di qualunque messaggio per presidiare le aree di maggiore importanza strategica, monitorando il territorio con il supporto della realizzazione di eventi mirati. Un nuovo potente canale per la diffusione di contenuti video, grazie al quale in ogni weekend si potranno raggiungere oltre mezzo milione di contatti, diretti al target 18-35 anni e che potranno aumentare man mano che il progetto assumerà una dimensione europea. Uno strumento prezioso che si integra perfettamente nel marketing mix e nelle strategie di comunicazione rivolte al target di riferimento. I contenuti saranno prodotti da uno studio centrale e trasmessi in contemporanea sui maxi schermi dei locali attraverso un collegamento via UMTS. Il format punterà sulla qualità e sull'utilità dei messaggi, tutto all'insegno dell'eccellenza. Attraverso postazioni internet e numeri telefonici a cui inviare sms, sarà possibile comunicare tra i locali e con lo studio centrale. L'istituzione di un apposito sito darà la possibilità ai ragazzi di iscriversi ad una vera e propria community, da cui ricevere informazioni relative agli eventi successivi e con cui dialogare al di fuori degli orari di frequentazione dei locali in cui si incontrano. I contenuti trasmessi nel circuito schermo saranno di carattere sociale, informativo e pubblicitario. Schermo è realtà già oggi e procederà da domani con le dotazioni tecniche di cui i locali hanno bisogno per essere unificati nella prima rete interattiva multimediale mirata ai giovani che popolano le discoteche. L'unico luogo di aggregazione frequentato solo in Italia da oltre 6 milioni di giovani in grado di rendere cool e glamour un brand e un prodotto da subito. La scelta dei contenuti sarà accuratamente selezionata e terrà in grande considerazione le campagne di informazione sociale ed educazione, oltre l'invio di informazioni di pubblica utilità in tempo reale, rivolte direttamente agli interessati, i cui risultati saranno garantiti da uno strumento di grande visibilità a quale schermo e dal linguaggio impiegato di grande impatto sui giovani. Schermo Visual Network. La comunicazione di domani è già oggi. Grazie.